a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi ho portato delle cuffie wireless di marca sellor s10 sono impermeabili con certificazione x7 che significa resistenti all'acqua tenti né alla polvere e non sono resistenti al muoto perciò se volete andare a nuotare ve lo sconsiglio allora abbiamo l'unico colore nero andiamo aprire la confezione che oggi vi faccio vedere l'unboxing di queste cuffiette all'interno troviamo le cuffiette queste qua sarebbero le cuffiette che hanno quattro microfoni questa è la custodia di ricarica all'interno troviamo basetta per la ricarica delle cuffiette poi le cuffie wireless molto secondo me dal mio punto di vista molto carine questa custodia ricarica le cuffie di circa quattro ricariche massimo si mettono qua ma vi faccio vedere all'interno di questa custodia andiamo a prendere le cuffie in questo modo si chiude in questo modo dovrebbe uscire ecco si apre in questo modo con una luce led quando è verde e si chiude ricaricano quando è rossa se riuscite a vedere non ricaricano abbiamo il tasto sante dietro per il reset le cuffie infatti nella recensione completa abbiamo anche la cancellazione dei rumori per esempio lo provate già per strada vi dico che quando andate dentro a una metro se volete andare in treno volete sentire la musica non volete che le persone mi fastidiscono sicuramente queste cuffie sono ottime all'interno troverete anche in base come i gommini di ricambio e il manuale delle istruzioni come configurare in tutte le lingue che volete è una marca come vi ho detto se quello molto buona questo è cavetto usb tipo c dici ricarica il dispositivo in circa un'ora e mezza avete sicuramente la ricca la basetta caricata con le cuffie all'interno che durano circa 30 ore di autonomia come vedete poi all'interno troverete quattro microfoni abbiamo poi l'audio stereo e poi anche sono in modalità sport e sono in ear veramente ottime cuffie in cui nella recensione completa vi dirò sicuramente molto ma molto di più su queste cuffie che sono da 6 mm di spessore veramente si mettono nell'orecchio molto ma molto facilmente e non portano problemi all'interno dell'orecchio come fastidi però vi consiglio sempre non dormire con le cuffiette specialmente la notte perché si potrebbe diciamo proprio possono provocare problemi all'interno dell'orecchio ma non solo queste ma qualsiasi tipo di cuffie poi nella recensione completa vi dirò tutti i suoi difetti due sui pregi e con questo è tutto questo è l'unboxing di queste cuffie cellor s10 ottime cuffie io mi sto trovando benissimo e ve le consiglio assolutamente di acquistarle infatti se vado per esempio per strada non si sente tendono le persone che gridano non si sentono i treni le metro e per me per questo e per me è ottimo anche le volume delle chiamate con questi quattro microfoni è ottimo chiederete che prezzo partono prezzo di partenza 40 euro vi rimango anche il link in descrizione prima che uscirà poi la recensione completa su queste bellissime cuffie e ragazzi con questo è tutto ci vediamo in prossimo video un saluto da tecnogigi e seguitemi anche su instagram dove porto sondaggi o altre cose sulle schede tecniche di vari telefoni ciao ragazzi